L'indirizzo ce l'ho, rinfacciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di pisti, sarò grande e vedrai, dammi spazio e dopo mi dirai, mmm, che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, semmai, mentre lui, lui chi è, lui chi è, lui chi è, lui chi è, cioè è difficile farlo con te, mollalo, lui chi è, lui chi è, lui cos'è, lui com'è, è distratto ma è certo di troppo, mollalo, mi aspettavo lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità, trovarmi una collocazione, ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò adottare, Mentre io rischierei, di trovarmi al buio fra le braccia, lui, mmm, non è il mio tipo, lui chi è, si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare, lui chi è, No 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 no. Lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile farlo con te. Mollalo. Il triangolo no. Non l'avevo considerato. D'accordo ci proverò. La geometria non è un reato. Garantisci per lui, per questo amore un po' articolato Mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei Perché no, lo rifarei Lui chi è? No, 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 lui chi è? Lui chi è? No, 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 no Ma loro, dico loro, chi sono? Grazie per la visione!